Nella puntata odierna di Uno Mattina, il conduttore ha svelato un retroscena interessante sulla band di Ballando con le stelle, guidata da Paolo Belli. Il gruppo, che accompagna dal vivo le esibizioni dei concorrenti, ha il compito di suonare in perfetto sincronismo con i ballerini. Ma mantenere il ritmo ideale non è sempre semplice, come racconta il conduttore. Ora dico una cosa che succede nel Dietro le Quinte. Tutto live, ma spesso noi ballerini non riusciamo a stare a tempo perché sono troppo veloci, quindi chiediamo alla band di rallentare e loro si rimettono nuovamente a rallentano per noi. Non so come facciano. Questo dettaglio svela la grande professionalità dei musicisti e cantanti che, grazie alla direzione di Paolo Belli e alla collaborazione con Mili Carlucci, offrono una performance impeccabile ogni settimana. Dietro le quinte del programma, le dinamiche sono in continuo movimento. Ballando con le stelle è noto per la sua vivacità, tra tensioni tra concorrenti, storie d'amore che fioriscono, e piccole rivalità, non mancano mai i colpi di scena. Quest'anno, in particolare, il programma di Rai Uno sta dimostrando una straordinaria vitalità, tanto da sottrarre pubblico a Tussi che Vales, che mostra segni di stanchezza e necessiterebbe di un significativo rinnovamento. Massimiliano Ossini, indubbiamente uno dei volti più amati della televisione, ha stuzzicato la curiosità del pubblico annunciando che ci sarà una sorpresa che però non posso anticiparvi per la puntata di sabato. Dopo l'interpretazione nei panni di Jack Sparrow, Ossini promette un'esibizione impazzesca per la prossima serata, senza però svelare alcun dettaglio. Il programma si prepara a un grande spettacolo, con ospiti speciali come Simona Ventura e Giovanni Terzi nei panni di ballerini per una notte. I due, che hanno vissuto un momento romantico proprio a Ballando con le stelle e con la proposta di matrimonio, saranno protagonisti di una performance attesissima. E voi cosa ne pensate?